Sara Ricci ha una carriera professionale di tutto rispetto, adesso cerchiamo di essere seri. Sapevate che ha fatto un film con Wim Wender, Sara Ricci? Eh, è la verità, non è che sto dicendo. Non sanno chi è Wim Wender. Non sanno chi è Wim Wender. Chi è che sa chi è Wim Wender? Vabbè, è un regista tedesco famosissimo. Nessuno lo sa? Ah sì, famosissimo. Famosissimo, eh, voglio dire. Beatrice, l'avresti mai detto che ha fatto Sara un film con lui? No, lo sa. C'è lo sopravergine. Non lo sapevo, però ci credo. Ha fatto anche Carabinieri, la fiction, vero Sara? No, Carabinieri no. No, cosa hai fatto? No, io Carabinieri no. Che fiction hai fatto, famosa? Beh, ne ho fatte tante, che ne so. Provaci ancora Prof. Provaci ancora Prof. Maresciallo Rocca. Maresciallo Rocca, capito. Maresciallo Rocca, sottocopertura. Perché ride la Luzzi? Non ho capito io. Perché l'abbiamo fatte tutte, quelle. Come l'avete fatte tutte? L'hai fatta pure tu? Non posso dirle perché. L'abbiamo passate tutte. Non posso al sole. Sì, però tu, cara Beatrice, la tournée teatrale a... La tournée a Monaca, no. Eh? Non l'hai fatta. Né a Trieste, né a Torre Annunziata. Guarda che abbiamo debuttato al festival di Borgio Verezzi quest'estate, con un festival importantissimo. Stupendo, sì, è vero. Sì, è vero. Sì, è vero. Sì, è vero.